che in qualche modo dà seguito a queste affermazioni and the last movie we're gonna see in a few minutes which is very fresh because it has been just set up you know this morning and is somehow the consequence of the last I think is the red of the of the climate and the topic of death And that the fact that design has been faced with the issue of death The topic of death Il tema del sacro, non della religione, ma del sacro. Non si è mai confrontato con il mondo animale, si è sempre confrontato su se stesso. Da qui la sua grande centralità, ma anche adesso il suo grande percoroso esonamento. Nella prospettiva che forse è veramente lieto fine, non è assolutamente garantito. E questa è la prospettiva che l'impianto non è più grande. Si tratta di un breve. Si tratta di un breve. E questo è un film di 5.5.5. E questo è un film di 5.5. Este è il film di 5.5. E questo film di 5.5. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.